Ale, ti faccio i complimenti per questo traguardo importante raggiunto con una maglia storica come quella del Palma ricordandoti che tutto questo è stato possibile grazie a me, quindi minimo una scena me la devi pagare anche perché tutti i tifosi del Palma è giusto che sappiano che sei uno degli uomini più tirchi sulla faccia della terra e quindi è giusto che a questo punto tu paghi una cena minima al ristorante come ti ho detto A perché sei una mia invenzione e B perché ti ho insegnato qualcosa nella vita visto che nell'ultimo anno sei stato bravo e ti sei preso delle responsabilità e hai gestito delle responsabilità per amore di una maglia che non pensavo che tu potessi avere la personalità di farlo evidentemente sei davvero molto legata a quei colori e questo ti ha dato una forza incredibile per poter affrontare tutta la questione. Un abbraccio!